Il mattino scomodava una truppa che andava a mattina a girare per 30 secondi di contenuto. Due persone erano in un ballo alle 11 del mattino, però era parte di un contenuto che sarebbe rotto 35-36 di sera. Era molto intensissimo a lavorare, non c'era più di cui ci permette, si guardava avanti, sono arrivata qua alla 6-60, me ne sono andata a tutta alta.